Oh, io non vedo dove devo passare. È morto. Con cosa? Ma dove diavolo mi trovo? Ah, è il boss. Ah, di già? Eh, non si passa di qua? Eh no. Dì, è di lì. Sì, vedi, c'è lo stesso moveset tipo. Sì, è simile a quello lì. Io questa pistolina non la userei, userei quella la Wolfsbane. Dopo la prova. Mine e Wolfsbane. Solo tiene. Sì, ma secondo me non lo puoi tenere sempre. No, forse sempre no, però. Vanti chiudere in quest'angolo, io po'. Ti inseguo con il martello. Adesso, adesso. Via, via. Via. Sembra Babbo Natale. Dove va? Uccile da cecchino se vuoi. Forse chiama gli stronti. Sembra proprio che chiami gli stronti. Dici che lo affronti un po' e un po'. Eh, mi so. Ma mi sembrava un po' da pezzi di me. Non so quanti ne chiamare. Oh, cazzo, c'è anche lui. Ah, vabbè, decide lui. Ma non gli dare le coltellate. Scappa. È un battigianale. Sì, forse di una mina. Metti una mina. La cattiveria nella testa. Non c'è più niente nella testa. Vabbè. Via, via, via. Hai finito i colpi di fucisa? Sì. Metti la waspame, dai. Shotalo. Uh, che tecnica da. Oh, i besti di merda. Ho avvisi, ho avvisi. Però, in effetti, se lui li uccide... Eh, infatti, attiralo, attiralo che li uccide, tu parti. Guarda, guarda, li uccide da solo e lui. Ne ho preso uno per sbaglio. Gli scarti. Via, via. Armiamo. Ti è incazzato. Mi sa che questo è il verso latino. Lì, già. Non muo' ha iniziato. Però vabbè, gli ho usato un sacco di miei. Ma io ti tengo, fra. Fatti qualche munizio. Io dovrei dire. Mi metto il coltello e provarti nella macchina. No, dai, ci metterai una vita. Caricalo, caricalo. Dove sei avviato? Andato su. Non mi fai niente. Chi è il boss qua? Chi è il boss? No, no, chi è il boss? Chi è il boss? Chi è il boss, amico mio? Ah? Ma dai, è un po' arretra pure. Ah, mamma mia, con l'ancio che verrà. E' morto, è morto. E' morto, è morto, sì. Sì, ma vabbè, non potevamo farlo anche con il coltello, veramente. No, sì. Hai dovuto lanciare sei cose, ci mettevi un'ora e mezza. Ok, ma l'avrei usato anche con il pesce, il signor pesce, per esempio. La parata è veramente sbraccata. Non è che l'abbiamo anche potenziata, ma... Signori, ma che roba è... Oh, guarda la vita, è verde ancora. Cioè... Assurdo. Che difficoltà, comunque, no. Ho capito. Ho visto... Ho visto il finale di Resident Evil 7, quello dove c'è sempre Ethan, no? E alla fine c'è una scena che lui viene attaccato da una cosa gigantesca, un mostro che è, che è anche una casa, tipo. E lui... Ah, la... Cioè, quindi, sì, se può parare una casa, può parare anche un martello. Vabbè che aveva tutte le dita, eh, in quello lì. E qua ci sarà un punto dove sparare, a cogliere il cristallo. Ecco il cristallo. Ah, sì, lì, sì. Lì, lì. Ehi, quanti ce n'è? No, un milione ce n'è. Oh, io ci provo a sparare. Non avevo visto che l'avevo raccolto, e sennò toccavo... E poi alla fine voltava, perché comunque ti dava. Sì, guarda che roba, guarda, guarda da divertirsi. Quanti ce n'è? Forse è perché non lo incontreremo più in mercante. Col coltello, quello. Va bene, andiamo a fare col coltello. Comunque ce ne sono ancora, secondo me, eh. Di sotto ce n'è uno. Clea, fra. Clea. Madonna se ce n'erano, eh. Sei contento? Tu che sei un raccoglietore. Un raccoglietore? Sì, tipo Mr. Spazzature, cattale spazzatura. Ma c'è qualcosa magari nelle posi. Qua mi sa che sono passato gli amici di Chris. Con un colpo solo, visto che col coltello potevo dare. Allora madre Miranda la proviamo col coltello. No. E ormai c'è rimasto. Guarda, guarda. Per una tv. Ah, qui è della tv da dove parlava... Da dove ci ha parlato l'altra volta. Qualche cosa... Oh! Oh, il trip. Forse mi ricordi della bambina. Che spettacolo, Ethan. Ben fatto. Oh, ma ancora vivo? Vieni fuori, strozzo. Non te la farò passare, Lisha. Mantieni la calma. Ancora uno sforzo e sarà tutto pronto. Ancora vivo. Ti darò una mano. E tu in cambio... In cambio cosa? Innanzitutto vieni qui. Metti i flaconi nell'altare. E il resto lo capirai da solo. Posso dire un cosa? A presto, Ethan. Da quando abbiamo iniziato a mettere quei flaconi ci ho pensato. E poi sempre di più. Che alla fine tu gli stai a fare un favore a mettere i flaconi là bene. Sì, sì. Sicuramente sarà così. Certo. Sicuramente. È l'altare. Va bene, dai. Andiamo avanti. Anche perché indietro? Si può tornare volendo. Sì, ma non c'è più niente. Ammazzati tutti. Oh, il piatto di Guglielmo. Salutiamo Guglielmo. Ciao, Guglielmo. Grazie per il tuo piatto. Oh, bello. Controlla gli oggetti. C'è madre Miranda, c'è una madonna. C'è una madonna. Tipo una madonna. Controlla gli oggetti. La posso accoltellare la madonna vera, se no non me lo fanno caricare su YouTube. Vabbè. E' un po' san Barcarolo. La conosci quella, il Barcarolo romano? Controcorrente. Bella quella. Però me la devi cantare il romanazzo. Controcorrente. Io non riesco a fare il calere. Prova tu. Il Barcarolo va. Controcorrente. E' così. E' come lo fanno loro. Io vado avanti. Tanto in realtà in barca non puoi fare la scena. C'è una madonna, grazie. C'è una madonna, grazie. C'è una madonna. E' tutto... Ok, quindi andiamo avanti e vediamo se ce ne è manco. No, non c'è un cancello. La fagli fare il Beyblade. Oh. Andiamo di qua, no? E' di qua dove si va? Penso. Magari ci sarà qualche simpaticone. Eh, oh. Cosa servono queste cose, Barcar? Seguardo adesso. Per un medio di tortura. Un po' d'ass. Sì, sembra un torturatoio questo. Sì. C'è potrebbe essere il mio. Credo chimico. Oh, il pesce. Ma noi l'abbiamo già preso. Eh, quello sì, noi l'abbiamo già preso. Siamo più avanti del gioco. C'è un cazzo. C'è un cazzo. Un po' una delusione. No, ma tutte munizioni. Quindi ci sta, però... Magari arriva qualcuno. Vai. Note sull'impianto del cadeau. Soggetti 174, 181. Soggetto 164, Mihai M, caratteristiche 21 anni, maschio, Argentier. Argentier. Sarà. 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 Sarà a lavoro. Disoccupata, vedi, con l'altro. Olmonite. Risultati confermati. Olmonite. Olmonite. Leggimelo tutto così, dai. Te lo metto tutto questo, se me lo leggi così. Risultati confermati. No, no, leggimelo. Leggimelo male. Beh. Sì. Non lo so fare. C'è oggetto 177, Bernadette B, caratteristiche 21, femmina, disoccupata. Soccupata. Nessuna malattia pregressa, risultati morte. È di Barry, Bernadette. È di Barry. Caratteristiche 44 anni, femmina, discendenza nobile, non proviene dal villaggio, più malattia del sangue ereditaria. Ricarica le armi, per sicurezza. Posso andare con un maestro. Oh, cazzo. Ok. Quanti c'è? C'è un infarto. Uno. Con i camminatori, con le asce però, eh, occhio. Oh, questo ti ha mandato subito il rosso, là, con l'asce, non come quello con il martello. E questo mi fa parte del bosta. Grazie a tutti